Tutti quanti abbiamo vissuto quelle situazioni di imbarazzo dove magari noi in un gruppo si sta parlando e a un certo punto esce un discorso di cui uno è totalmente ignaro e totalmente ignorante nel settore, no? E quante volte è più facile scappare da quella situazione e tirarsene fuori? Quando in realtà puoi crescendo e maturando realizzi No, no, aspetta, parlamene di più, fammi capire ancora meglio questa cosa, no? Cioè ma hai già ragione che è una cosa che non sai O c'è la gente che proprio inizia a sparrare a caso Ah sì sì no perché anche io Oppure ci sono quelli che, bom, si muturiscono e basta Che va bene, è già un buon segno comunque perché meglio stare zitti che sparare a caso Però magari quando uno sa per finire il discorso fai altre domande, chiedici Siate curiosi di approfondire sempre di più Anche se potenzialmente è un argomento di cui non ve ne frega un cazzo Però fatelo perché innanzitutto